Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Questa sera avevo detto che vi avrei portato il primo episodio su The Crew Ma questo video è solo per avvisarvi che il video di The Crew verrà posticipato, verrà spostato a domani E niente, da qui è tutto, lasciate tantissimi like Arriviamo a 7 like per il prossimo episodio Commentate, iscrivetevi al canale, passate nella pagina Facebook e trovate nella descrizione di ogni video E noi ci vediamo al prossimo video, bella!